Questa puntata è senza sigla perché è un'altra puntata di Tolkien. Ne abbiamo fatte diverse puntate di Tolkien. Alla prima puntata di Giorgettina, fatta alla fine del 2017, sono state fatte già 790 bisbolizzazioni. Ciò sono molto contento perché voi tutti mi avete seguito, mi state seguendo e continuate a seguirmi il tutto per via quel canale che sappiamo ormai da quasi tre anni. In base al numero delle visualizzazioni vorrei parlare di Giorgettina. Giorgettina è una ragazza alta, bionda, con la frangetta. Giorgettina è una farmacista. Giorgettina calza zoccoli di legno. Quando è in farmacia, quando è in casa e quasi sempre. Anche quando in estate va a fare la spesa al centro commerciale della città di Catania. Giorgettina a volte fino a novembre. Cazzo lei ci abbatte altri disurro con la zeppa. Ora, dopo aver parlato di Giorgettina, vorrei cantare la mia prima canzone. Una ragazza, Giorgettina, bionda e birichina, con la frangetta. Fa la farmacista e sta in Sicilia, Giorgettina. Quando Giorgettina va al supermercato, certo che si presenti in minigonna dalla sua voglia. Pur facendo la sua spesona a quel supermercato. Tutti quanti vedono, coi bigodini e zoccoli, altri disurro con la zeppa. Se Giorgettina va in banca a parlare con quel direttore, di cose sue, con quel direttore, si avvoltava con una gonna e senza bigodini. Dopo che ha parlato brevemente con il direttore, il direttore manda via dalla banca a Giorgettina. Dopo che ha parlato brevemente con il direttore, il direttore non si andava in piscina per nuotare a Giorgettina. Bene, oltre a questa canzone ne ho fatte altre canzoni, altri brani, sempre su Giorgettina. Bene, la puntata di Talk finisce qui e quando arriveremo a 800 visualizzazioni ci sarà una sorpresa. Dal vostro amaro un caro saluto affettuoso e buon proseguimento di pomeriggio di questo secondo sabato del mese di ottobre. Oggi ne abbiamo 10-10-2020. Alla prossima, ciao!